L'abaco dei serramenti. In questo video andremo a vedere che cos'è, perché è importante per richiedere i preventivi e come si può fare. Quindi questo video è dedicato soprattutto ai privati che devono richiedere un preventivo per infissi, ma anche ai progettisti che vogliono avere il punto di vista di un serramentista per capire che cosa è importante che ci sia all'interno di un abaco per serramenti. Quindi è avere anche qualche idea, qualche spunto su come redigerlo, perché io credo che ascoltare il punto di vista di chi riceve quel tipo di documento è importante per creare una collaborazione migliore e quindi un risultato finale più efficiente, più efficace. Partiamo subito da che cos'è un abaco dei serramenti. Un abaco dei serramenti è un documento dove all'interno ci sono raffigurati e indicati tutti i serramenti di quel progetto specifico che si sta preparando. Solitamente è un documento fatto in dvg che poi può essere trasformato in un pdf e chiaramente può essere stampato e ci sono tutti i serramenti, tutte le dimensioni, tutte le caratteristiche che devono avere. Ora guardiamo ad esempio quali sarebbero le cose importanti da mettere all'interno di ogni serramento. Quindi il disegno del serramento stesso, l'identificativo, quindi questo è qualcosa di molto importante, occorre mettere un riferimento univco tipo 1, 2, 3, abc, poi vedremo qualche esempio più smart di che riferimento mettere, ma che vada a identificare in quella posizione quel tipo di infisso. Poi andrà inserita la tipologia di apertura, quindi se è abbattente, se è adanta ribalta, se è scorrevole, se è abilico, se è vasista, eccetera, eccetera, e il numero di ante, 1 ante, 2 ante, 3 ante, eccetera. Il numero di infissi perché potrebbe essere che per l'infisso F01 ce ne sia uno piuttosto che due, piuttosto che cento, dipende dalla complessità del progetto. Poi le caratteristiche tecniche prestazionali che purtroppo le vediamo poco spesso negli abc, però andrebbe indicato se quell'infisso deve avere una prestazione termica di 1.0 piuttosto che 1.3, un isolamento acustico di 40 dB piuttosto che 38, piuttosto che 44, la presenza di eventuali chiusure oscuranti, tapparella, faranti di sole, monoblocco, lo spessore del muro, quindi per poter fare il monoblocco, le zanzariere, l'inferiata o una predisposizione per l'inferiata. In quelli, diciamo così, nei progetti più avveneristici, la permeabilità all'aria, la resistenza all'acqua, la tenuta al vento, ecco, tutte queste caratteristiche indicate nell'abaco o almeno nel computometrico allegato all'abaco, sarebbe qualcosa di molto molto utile per chi poi va a creare il preventivo. Questo è un esempio di un abaco in fissi completo, dove vediamo che l'elemento e la tipologia, quindi il 13b, il 14b, il riferimento, la quantità dei seramenti, c'è un prospetto del seramento, ci sono delle caratteristiche, quindi lo spessore della muratura, le dimensioni del serramento, del vano architettonico, i tipi di materiale, il tipo di maniglia, il tipo di apertura, accessori, che qui non è presente, qua è presente lo scuretto, poi ci sono delle note, vedi, finestra con solo scuretto, blindato, vedi note generali, insomma, tutto, tutte delle cose, delle caratteristiche che ci aiutano poi dopo a costruire un preventivo che si alligna con quello che il progettista aveva pensato. Questo invece è un altro esempio di abaco in fissi più semplice, però comunque piuttosto che niente è meglio questo, no? Perché piuttosto che niente vuol dire che si va a richiedere un preventivo con solo le prelimetrie, quindi io vedo la casa da sopra, vedo base per altezza e basta, quindi non ho nessun'altra informazione per poter andare a fare il preventivo di quel seramento. Invece in questo caso, almeno vedo raffigurato il seramento, vedo la tipologia di apertura che è scorrevole, una apribile perché c'è la freccia e questa che è fissa, c'è la leggenda, quindi quando parliamo dell'infisso I sotto tratto 01 è questo infisso, quindi è un nome univoco quando si parla col progettista, quando si parla col cliente, quando si parla col moratore, c'è la leggenda, c'è anche qualche nota, è un abaco comunque, un abaco base, ma comunque che aiuta tutti quelli che lavorano a quella casa, non solo seramentista, a parlare la stessa lingua. Ma a che cosa serve principalmente? Sì, serve aiutare tutti i soggetti che partecipano alla costruzione, perché quando si parla di quella finestra tutti sanno come deve essere fatta e il riferimento la identifica, perché pensiamo in tantissimi progetti, non essendoci l'abaco, devi dire quella finestra nel bagno al piano primo, sì ma quale bagno? Ce ne sono quattro, perché magari è una bella villa, il riferimento è indispensabile per tutti. Quindi serve per poter richiedere dei preventivi, di infissi, con le caratteristiche, le misure, le prestazioni che il progettista aveva ideato per quel progetto. Inoltre, conterrà anche le esigenze che tu hai detto al tuo progettista, perché magari dici sulla facciata principale della casa, il lato strada è abbastanza terrificato, vorrei avere una prestazione acustica superiore e quegli infissi lì, nell'abaco, avranno un vetro con una prestazione acustica superiore, piuttosto che tutte le porte e finestre a piano terra magari dovranno essere blindate o con la soglia ribassata per abbattere le barriere architettoriche. Tutte queste caratteristiche, queste esigenze vanno comunicate al progettista che le andrà a indicare nell'abaco. Ma come trovare tutte le esigenze, tutte le informazioni da inserire nell'abaco? Se si vuole, c'è un servizio di consulenza che puoi trovare su www.blogbisacchi.it dove io vado ad aiutare tutte quelle persone, clienti privati ma anche progettisti, che non posso aiutare direttamente con la Bisacchi per problemi magari di distanza, sia molto lontani dalla Romagna, piuttosto che magari per ragioni di tempo, perché come Bisacchi abbiamo sempre tempi di consegna nell'ordine dei 12 mesi. E quindi se uno il progetto ne ha bisogno prima, ha bisogno e gli servono dei consigli, può valersi di questo servizio e vi lo aiuto a mettere a fuoco tutte le prestazioni importanti. E perché è importante avere questo abaco degli strumenti per richiedere un preventivo? Perché se si va a richiedere un preventivo senza questo documento, e quindi si va solamente col progetto, principalmente vedo clienti che arrivavano con le planimetrie, le planimetrie indicano solo la misura, quindi diciamo è una quantità numerica. Sarebbe un po', per parafrasare e quindi per spiegare meglio il concetto, se andassi da un ristorante dicendogli mi servono 300 grammi di cibo, ok? Uno ti può dare una ciotola di riso, l'altro ti dà una pizza, l'altro ti dà del pesce, l'altro delle aragoste, e un altro ti dà una fiorentina. Questi sono i 5-6 preventivi che si chiedono. Ma che senso ha chiedere questi preventivi, no? Eppure loro hanno risposto alle tue richieste, perché tu sei in sabaco, gli hai dato le misure, tu gli hai dato la quantità di cibo, stessa cosa, perché non gli hai detto null'altro. Però magari si è entrato in un ristorante e uno gli ha detto che preferire una cosa, a uno gli ha detto che preferire un'altra. Questo succede quando si chiedono i preventivi, perché mai si vede quella finestra, mi piace quella, e quella magari è un doppio vetro. Poi nell'altro showroom mi piace questa, e quella è un triplo vetro. Oppure dall'altra parte mi piace questo infisso qua, ma quello è un infisso in PVC, e invece la finestra è alta 3 metri, e il PVC non va bene per fare una cosa di questo tipo, ma se non c'è l'abaco che ha descritto il tipo di materiale, perché il progettista sa che va bene per quel tipo di apertura, il venditore ti venderà quello che gli piace. E poi i seramentisti, o anche i semplici rivenditori, quelli più professionali, cercheranno un po' di indagare e di fare un preventivo con quello che occorre mettere veramente. Quelli più scaltri, più furbi, magari invece ti metteranno quello che fa comodo loro, quindi ti faranno il preventivo magari più basso, quello più appetibile, quello che poi una volta che male l'hai firmato, poi dopo dovrà essere cambiato radicalmente, mano a mano che affioreranno tutte queste informazioni. Il progettista, infatti, va a calcolare tutto quello che serve da mettere all'interno di un abaco, la reazione, la tipologia di apertura, le caratteristiche tecniche e con questi documenti invece si può fare un progetto fatto come si deve. Ok? Sono stato un po' avanti e indietro nel slide perché avevo paura di venire saltata una, invece ci siamo. Un seramentista professionista senza abaco dei seramenti non ti darà mai un preventivo. Io stesso faccio così, se mi arrivano a chiedere un preventivo, solo con le parametrie, io il preventivo non glielo faccio. Perché sarebbe qualcosa che non serve a niente, sarebbe solamente una perdita di tempo, perché poi cosa confronti? Di preventivi completamente diversi? A meno che uno non abbia tempo da buttare, ma io credo che né un cliente privato né un progettista abbia del tempo da buttare via al vento e nemmeno un seramentista professionista. Quindi è molto importante richiedere questo documento prima. Questo è un esempio di un abaco completo. Qui abbiamo tutto l'abaco dei sermenti interni ed esterni, abbiamo tutte le planimetrie, tutte le leggende, anche di che cosa vogliono dire, le cose inserite nell'abaco, e abbiamo anche i prospetti. Perché anche il prospetto è importante, ti fa capire alcune soluzioni tecniche perché sono state adottate, ti fa capire l'impronta di stile, quindi trovi una certa congruità tra quello che è indicato nell'abaco e quello che viene richiesto dal cliente e questo sarebbe l'optimus per andare a richiedere un preventivo. Però come abbiamo visto anche quello semplificato non è male. Questo per i progettisti. Come si fa l'abaco delle finestre? Cioè il progettista chiaramente sa come si fa perché l'ha studiato all'università. Però io come consiglio direi di partire dalle planimetrie. Si fa un riferimento alla posizione. Come consiglio direi di andare a mettere per le finestre delle sigle con la F davanti quindi F1, F2, F3 per le porte e finestre le chiamerei PF1, PF2, PF3 per le porte farei P1, P2 eccetera. In più si potrebbe pensare anche di mettere un suffisso con PT, P1, P2 che va a identificare il piano dove è ubicato quell'infisso in modo che se ti chiama un muratore che ha un problema con la misura di una finestra al piano primo e ti dice guarda io sto facendo la F10 P1 tu sai già che sta guardando una finestra al piano primo anche senza aprire la prelimetria. Questi sono i riferimenti che chiamo smart perché sono semplici e intelligenti e ci aiutano a fare il nostro lavoro quotidiano in maniera appunto più semplice. Successivamente dopo aver fatto i riferimenti si prendono il tipo di apertura tanto ormai quando pardon quando si fa un progetto si va a progettare tutto l'arredo di una stanza io mi ricordo ho iniziato a lavorare 35 anni fa una volta nei progetti vedevi solamente le pareti dentro non sapevi perché c'era scritto letto piuttosto che soggiorno però oggi si progetta tutto anche perché quella stanza deve funzionare a livello logico a livello di tutto quello che comporta la vera architettura perché la vera architettura non è solamente fare delle cose belle ma è fare delle cose funzionali e che seguono i sogni del cliente quindi una volta che c'è desiderato l'arredo posso sapere anche quella finestra se si apre a destra se si apre a sinistra se deve essere fatta un'altra se deve essere fatta a due ante poi andrò a inserire le caratteristiche tecniche quindi termiche andrò a inserire il tipo di materiale perché in funzione delle dimensioni in funzione dei gusti e le esigenze del cliente se il cliente vuole un infisso zero manutenzione e che duri il più possibile gli andrò a inserire un infisso in alluminio piuttosto che legno alluminio ad esempio andrò a inserire eventuali accessori oscuranti come le zanzariere le tapparelle le persiane poi magari se è un bagno che è dalla parte di là o un ristorante magari andrò a mettere un vetro satinato piuttosto che un vetro selettivo se è una finestra che prende sole alla mattina al pomeriggio e non ho la possibilità di mettere una chiusura oscurante sarà importante mettere un vetro selettivo e andrò a indicare il grado di selettività quindi il fattore solare piuttosto che se è un infisso che serve sicurezza quindi un vetro blindato e l'infisso blindato non solo il vetro quindi RC1 RC2 RC3 RC4 oppure se è una finestra posizionata un po' in alto a vasista dove serve il motore andrò a inserire apertura motorizzata un altro consiglio che voglio dare ai progettisti è che può essere molto utile come questo esempio fatto dal vostro collega architetto belle maurizio dove ha indicato con i colori le aperture quelle esterne quindi gli infissi esterni gli infissi interni e un altro colore per le porte d'ingresso anche questo è un elemento smart quindi è molto semplice da fare ma va a identificare immediatamente il tipo di infisso che sto trattando poi consiglio di tenere separati gli abaci interni e gli infissi interni da quegli esterni come in questo caso quindi tutte le porte interne devono andare in una tavola e tutti gli infissi esterni che sono quelli più importanti perché mi delimitano l'involucro quindi tutte le prestazioni termiche, acustiche tenuta aria acqua e vento mentre gli infissi interni hanno una valenza insomma più estetica e funzionale rispetto all'infisso esterno per concludere abbiamo visto quanto realizzare un ad hoc fatto bene e completo di tutti gli elementi che occorrono è importante per poter richiedere ed avere in mano dei preventivi che possono essere un minimo equiparabili o confrontabili poi sappiamo che ognuno lavora a modo proprio però dico se almeno partiamo da una base di richieste comune è più facile che mi arrivano dei preventivi simili tra loro e che ci siano anche meno differenze di quello che mi viene proposto per concludere se ti serve comunque un aiuto per redigere questo abaco ti ricordo che attivo il servizio di consulenza su www.blogbisacchi.it quindi vai all'interno del blog clicca sul menu in alto su consulenza scegli giorno e orario e ti aiuterò a redigere l'abaco se sei un progettista o a trovare quali sono le esigenze e le tipologie di apertura da inserire nell'abaco se sei un cliente privato ciao e al prossimo video e al prossimo video grazie a tutti